Il comitato di quartiere Lido Centro ha scritto alla presidente del decimo municipio Giuliana Di Pillo e alla polizia locale per segnalare il pessimo stato in cui versa via della stazione del Lido ad Ostia. Gran parte dei rifiuti sono abbandonati dai frequentatori dei rivenditori di alcolici, si legge in una nota. Peraltro è stato notato che tali attività rimangono aperte fino alle 23.30 continuando a vendere alcol anche dopo le 22, contrariamente a quanto previsto dall'ordinanza sindacale. Oltre a lasciare in strada bottiglie e lattine gli avventori in molti casi si assemblano sui marciapiedi non consentendo il passaggio dei pedoni e delle persone diversamente abili. Chiediamo di attuare con celerità una bonifica dell'area verde compresa tra via dei remi e via della stazione del Lido, oramai satura di rifiuti di ogni genere ma allo stesso tempo conclude il comitato vorremmo che fosse eseguito un monitoraggio dei negozi che vendono alcolici.